Questo primo pezzo in realtà è il pezzo che apre il nostro disco. Nel disco lo canta una cantante scozzese che si chiama Isabel Campbell, molto brava, qui invece lo canterà il sassofono del maestro Carnevali e abbiamo un po' trasposto la nostra sensazione che era quella di, l'abbiamo registrato in California questo disco, adesso l'abbiamo spostato dalla California ai Lidia Ravennati, pensiamo di essere magari una Valero e non un Knight tipo nel 75 a Lido di Dante, va bene? Grazie per essere ancora qui, buona serata. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.